Il gruppo ambientalista Greenpeace si sta abbattendo per la creazione di una riserva protetta nell'oceano antartico per preservare la fauna selvatica dal crescente inquinamento che sta interessando la zona. La proposta è stata rilanciata in seguito a una recente spedizione nel corso della quale i ricercatori del gruppo hanno raccolto e studiato una serie di campioni di acqua e neve, sottolineando come la maggior parte di essi contenessero particelle di microplastica. Frammenti di buste, pneumatici e altri materiali inquinanti sono stati rinvenuti in almeno 9 dei 17 campioni prelevati in vari punti della penisola antartica. Secondo Greenpeace questa analisi potrà rivelarsi utile ad avere un quadro più chiaro riguardo all'inquinamento nella regione che nei prossimi anni rischia di compromettere seriamente la vita delle specie marine.